Benvenuti al Teen Titans Top Talent! Il talent più fantastico del multiverso! Beh, di sicuro il più divertente! Rilassatevi e guardate i Titans combattere in tre difficilissimi round per vincere! Un trofeo? Davvero? Tutto qui! Ok, incontriamo i nostri giudici! Brain, capo della confraternita del male! Yella, attacca brighe della Hive! E forse il più grande nemico dei Titans, Maestro Blood! E ora, incontriamo i Teen Titans! Guardateli! Si riesce a vedere il talento che irradia dai loro corpi! C'è Robin, il più grande, più potente e più alto supereroe del mondo che... Un attimo, Robin, l'hai scritto tu, questo? Beast Boy! Se cercate il talento nel mangiare e fare i pigri, andate da lui! Stella Ruby è la nostra Titan di Tamaran! La nostra principessa rosa e sbrilluccicante! Cyborg, il nostro rilassato amante della pizza! Cioè, colui che combatte il crimine senza sosta! È sarcastica! È imperturbabile! È demoniaca! È... Corbina! Il primo a esibirsi sarà Robin! Sono sicuro che non vedo l'ora di annoiarci a morte con la storia di come è diventato il leader dei Teen Titans! È nato e cresciuto in un circo! Quello è mio! Ed eccolo qui, anni dopo, ormai cresciuto e intento a combattere il crimine a Jump City! Oh, non ha funzionato! Così non va! Fermo! Smettila! No, non funziona! Terribile! Può servire un cambio di costume? Come hai i capelli? Oh, adesso è ridiventato il famoso Robin! Ed ecco com'è diventato così irritante! Impara a fermarti, ragazzo! Adesso Robin ci mostrerà il magnifico potere dei suoi muscoli! Decisamente non di grande effetto! Quando siamo senza, non siamo mai stati così bene! Mi dispiace! 35, 36, ho contatto visivo! 37, 79, 80! Ancora, ancora, ancora! Sollevamento pesi con bilancieri! Non farti prendere troppo la mano, Robin! Ah, i miei occhi! Continuiamo tutto! Non posso continuare! È la prima volta! Beh, ovviamente! Lasciamo stare! I giudici sono divisi! Cosa ne pensate voi a casa? Robin è stato bravo? O è destinato a restare una noiosa spalla per sempre? Il prossimo, se gli andrà, è Beast Boy, che ci mostrerà le sue abilità in pigrizia e disordine. Sono cose che in questo contest consideriamo talenti. Dai, spostati! Ed è pigro, come sempre! È questo il meglio che sa fare? Ok, il disordine è abbastanza impressionante. Cosa abbiamo che non va? Oh, no, è troppo disgustoso anche per Beast Boy. Siamo stancati e giochiamo a Invasione dei Bubble Bots. Oh, che schifo! Sto per sentirmi male. E si definisce un supereroe! È la vergogna del mestiere! Mi restano ancora... Cosa? Una standing ovation generale? Ok, tranne che da Brain. Ma questi pagliacci hanno un minimo di gusto? E ora... Stella Rubia e i suoi fantastici capelli, con cui è leggermente fissata. Mmm, questo vale come talento. Ok, i capelli sono piuttosto impressionanti. Sono così tanti e sono così... Rosa! Che capelli! Che hot! Allora, cosa si fa? Uh, cosa ne penserà Stella Rubia? Le piace? Oh, questo fa male! Ok, adesso tocca a Cyborg. Ah-ah, bello stile! Il prossimo da fare. Cosa sta facendo adesso? Costruisce un nuovo Mega Blaster da supereroe? Oh, questo era super! Attenzione! No! Non sarà per niente contenta. I miei capelli! Non ha proprio colpito i giudici. Anzi, credo che uno stia andando via disgustato. Sì, ecco maestro Blood che va via. Cara Stella Rubia, questo è stato crudele. Oh, mi gira la testa. Un grosso applauso bello pesante e ricoperto di metallo per Cyborg e la sua dimostrazione di superforza! Il kit da allenamento giallo è stupendo. Sì, proviamo anche lui. Guardami! Sto ingrossando... Non sta versando nemmeno una goccia di sudore. Oh sì, lo voglio fare anch'io! È inarrestabile! L'allenamento ci ripaga in questo modo! Guardate che muscoli! Sembra che stiano per esplodere. Cedecela! Questo non è barare? Cyborg ha distrutto la competizione! Li ha schiacciati tutti! Li ha polverizzati in tanti piccoli atomi! Credo di essermi fatto un po' trascinare dalla situazione, ma ora mi sono ripreso. Ed è il turno di Corvina che ci mostrerà la sua magia! Eccola all'opera! Bel numero! Ha fritto Cyborg! BAM! Non mi va di parlarne. I nostri bei giudici sono forse leggermente spaventati da Corvina? Forza! Credevo che foste i cattivi più terrificanti dell'universo! Bene, caro pubblico intergalattico, il primo round si conclude qui. Cosa ne pensate? Chi vi ha colpito di più? Almeno uno vi ha colpito? Votate per il vostro preferito, ora! Sintonizzatevi su Teen Titans Top Talent per vedere altri esempi di abilità fantastiche, incredibili, che sfidano la gravità! E non dimenticate di guardare Teen Titans Go tutti i giorni su Cartoon Network! A presto! A presto! A presto!